That's not my neighbor Allora, eccolo qui Io devo fare entrare, oppure no, le persone all'interno del palazzo Quindi io sono una portinaia E le portinaie, si sa, sono molto, molto, molto antipatiche Allora, io direi di iniziare Play, lui mi dice che Praticamente i tizi che verranno, che lasci entrare Non ti uccideranno immediatamente, ma alla fine della corsa Quindi, bisogna lasciar passare la giornata E poi, se hai fatto entrare la persona sbagliata È possibile che tu muoia Tu hai la finestra dove spunta il tipo Poi hai i tre piani del palazzo Quindi puoi vedere esattamente nei piani del palazzo chi c'è e che ci vive Hai un tasto di emergenza E poi hai il tastino che ti fa entrare o non entrare il tizio che viene E ovviamente qua ci sono i suoi documenti e il telefono Perché col telefono tu puoi chiamare a casa di quelli Molto carino Che li puoi anche chiamare a casa, tipo Salve, mi scusi, mi è arrivato un parente Benvenuta e congratulazioni per il tuo nuovo lavoro Ci sarà una lista di tutte le persone che ti chiederanno di entrare nel palazzo Devi vedere ovviamente se rientrano in questa lista oppure no Ricordati che è febbraio 1955 Ragazzi, ricordatevi sempre in che anno siamo Perché alcune di queste persone avranno il documento scaduto, secondo me Quindi può essere... Oh, madonna signora Bellina! Buongiorno, buongiorno lo vediamo insieme intanto se è un buongiorno signora Allora, lei si chiama Raftellin Cappuccine Questi sono i nomi che devo io alle Barbie quando ero piccola E questo mi sa che è il numero del suo documento E il documento scade il 06.1962 Va bene, ancora il documento è dentro, ci sta Minchia canotta, si è rifatta le labbra sicuramente, secondo me Sicuramente Allora, la foto ragazzi Intanto la foto I capelli mi sembrano uguali Il cerchietto pure Le labbra grosse La collana c'è Si è messa pure la stessa collana quando si è fatta la foto del documento E anche la borsettina Mi sembra uguale Lei è proprio identica Però non credo che il primo ce lo facciano uscire sbagliato Penso che il primo sarà sicuramente giusto Allora, lei si chiama Raftellin Cappuccine Giusto Perché il nome e cognome sono uguali Appartamento F0304 Il presidente in questo palazzo è venuto a visitare dei suoi parenti Ok, quindi magari ci sanno i suoi genitori Allora, lei è vero Nella scheda lei è identica F0304 Lei potrebbe essere giusta, ragazzi Allora, intanto io direi Che l'apparenza, ragazzi, è giusta Li di pure mi sembra giusto Lei ha dei parenti Quindi si chiameranno come lei Cappuccine, eccoli qua Ok, ok Allora, mi sa che lei Perfetto Allora, lunga faccia Grosso naso I capelli Lisci Perfetto, ragazzo È tutto È lei Signora, per me lei Anzi, aspetti Signora, per me lei può passare Lei è tutta corretta Lei mi sembra che abbia tutto nel posto giusto Lei mi sembra che abbia tutto nel posto giusto Eccellente Sì, sì, sì Lei può entrare, signora Sì, sì Prego Entri pure Salve Arrivederla Uh, che bel ragazzone Hello Hello Salve Lui è, si chiama Dottor William Afton William Wilson Sto palazzo è solo per ricchi, eh Non ci si entra senza la carta di identità giusto Allora, i capelli mi sembrano giusti La leccata di vacca c'è Gli occhiali pure Il naso a palla Le sopraccigliette bruttine La bocca un po' Mmm Camicetta Mmm Non ha la data di scadenza Questo potrebbe essere un problema Io non lo farei passare Però ragazzi, sta anche qua Nella scheda Vediamo un attimo i documenti Dice che è residente in questo palazzo Ah, dice che lui fa il fisico Raga, però è vero, eh Robusto Occhiali Capelli corti Naso a palla A me mi sembra tutto giusto 250 250 214 Anche questo mi sembra giusto 250 214 È giusto? Chiamo a sua moglie Allora 14 25 Signora? Salve, signora speaking Sì My fiance is not home Il mio fidanzato non è a casa Allora è lui, è giusto Allora è lui Possiamo lasciarlo andare, raga Allora, l'id è giusto L'apparenza è giusto L'entri request ci sta Babba, la data E ho capito, ragazzi Che gli devo dire a questo? Scusami Non ha la data, però è lui Raga, lo faccio entrare sti cazzi Entra Entra Non entra Entra Non entra Entra Non penso proprio Entra Raga Mi fido Guarda, questo qua mi inculla sicuro Buon pomeriggio Salve Oh, lui è molto carino Aspetta Prima fammi vedere i documenti Allora McCloy Eh Rude Rude Boys 964 611 L'identità mi sembra molto simile A quella che vedo in foto Tranne Il cappello Ha un cappello Il pizzetto e la fascia Sono uguali Anche il vestito È identico Raga, però non c'è Qui non c'è Ok Steven Rude Boys È suo figlio Non c'è nella lista Però il numero è giusto L'ID È un tizio che non labora 42 40 Fammi chiamare a casa L'ID è uguale Si chiamalo Sì, però non dovrebbe essere a casa Momo il figlio È lui, va bene Ma c'è Ha detto Mio figlio Non è a casa Raga, non è lui Raga, non è lui Raga Raga, non è lui Raga, raga, raga Raga, raga Perché lui ha detto Mio figlio Non è a casa Ma in realtà È il figlio Che dovrebbe essere a casa E lui dovrebbe essere fuori Fai il tasto rosso D'emergenza E questo non si preme Questo 33 12 Io a questo Lo butto fuori Aiuto Bayday Bayday Sta venendo qua Un gruppo di agenti Sì che devono prendere A questo qua Sta mentendo di essere un altro Non è che è mamma Ok Protocollo completato Puoi continuare il tuo lavoro Grazie Che grande naso Buon pomeriggio Io se Se lei ha il naso Come il pisello Io non lo so immaginare Si dice Grande naso Grande bene Devi chiedissima Ma non vorrei Non vorrei Però È un pisello Come lungo Però Se dicono tante cose Squibbi Vero Fonia Però potrebbe Vediamo Allora Accountant Non so cosa vuole dire Però ha fatto un lavoro Per il pubblico Forse Stinkli 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 Eh 483 6 8 4 E raga Qua Per esserci Comunque c'è la moglie C'è la moglie Lois Io chiamo la moglie Perché questa non me la raccolta giusta Hello Ok Sì La moglie Ok Il marito non è in casa Is back Sta tornando Allora Allora È possibile Che ci sia stato Un errore di comunicazione Ma a me sembra tutto giusto Lo faccio entrare ragazzi È buono Il primo giorno di lavoro Posso mai sbagliare Il primo giorno di lavoro C'è qualcuno Che mi ammazza sicuro Raga scusate A Felton E c'è entrato Oh porca Oh mio dio E io l'ho già fatto entrare Il pap tool Oh Cristo Raga ho sbagliato Io l'ho già fatto entrare Questo accanto Scusi un attimo Devo fare una chiamata No raga Vi pregocio È lui che parla Non aspettiamo Ha visitato Raga 250214 No il numero è giusto 250214 Raga com'è possibile Dice che lui è a casa Con la sua fidanzata E com'è possibile Che ce ne sono due Prima era l'impostore Oddio mi state dicendo Che ho fatto entrare a casa Il marito sbagliato Adesso si sta bombando La moglie di un altro Va bene lo stesso Tu che cazzo dici Quello di prima Il primo Fenton Non aveva il numero Qui ve lo ricordate Che non aveva il numero Il primo è quello finto Lui è quello giusto Erika E ora che cazzo faccio Erika ci manda a casa Questo Questo mi dice Oh ma che cazzo Raga io lo faccio entrare Se la vede lui Con il suo Con il suo guadagno Raga Muoio sicuro Non sapevo Che faceva un errore Oh Questo che cazzo Questo sembra quello di Come si chiama Il tizio che si scopa Brooke All'inizio E' lui E come si chiama Il tizio che si Bridge Bravo E lui è quello che si scopa Brooke E ci sarà Brooke Che l'aspetta a casa È già nuda Isaac Gauss 65 giusto Isaac Gauss 0202 Residente nel palazzo Ah lui fa il reporter Ok è uscito per andare A fare il reportage F0202 Isaac Gauss Ed è giusto Anche questo 456369 0202 456369 Ehi e Braus No aspetta Ehi e Braus È il colore degli occhi Braus Braus è solamente No Fè Giganti occhi marroni Esatto Tintin Ragazzi No 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 Madonna Madonna No Vaffanculo 3312 Veloci È sbagliato Sopracciglia Oddio Gli ebraus Ha chiamato La partita No Avete detto occhi Siete dei coglioni Di merda Questo voleva Solamente Tornare a casa Aspetti C'è stato un problema Voleva tornare Come Raga Non mi pagano Alla fine della giornata Non mi pagano E ci avrà mal di testa Ci avrà mal di testa Se deve riprendere Ci avrà mal di testa Sì No perché Si girava tutta Sicuramente Le serve qualcosa Le dia un occhi Magari poi le passa Sì Riggio Sei tornato Per la vendetta Riggio È tornato Per la vendetta Però è tornato Con due nasi Non con uno Guarda Per me Eh no Cioè ci salutiamo Già qua Per me sei un'anomalia Nel sistema Dai Riggio Torna Lui è la nemisi Di Voldemort Sì è quello Con più nasi Fallo entrare Per favore Così mi ammazza Allora intanto Io le chiederei Lì di perché Non me l'ha dato Non ha la carta Identità Signora Signora Questo è un problema Signora Lei non è nemmeno Nella lista Gli è caduto un occhio Però lei non Signora Lei non ha Una carta identità Mi scusi Lei è sicura Di vivere in questo No 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 Forse è stata sbattuta Non so ma l'hanno presa in pieno Mi sa Signora Fammi Fammi chiamare il marito a casa Ok mia moglie Ok mia moglie Si è sempre Entra via a casa Ragazzi Eh Sì Una coppia di degenerati Sì assolutamente Ok signora Io direi che per oggi Il caso È chiuso Oggi sono tutti con problemi Non ne ho fatto entrare manco uno A casa Sì però se mi ridate il rigio di prima Che è sempre Poverino Quello No è ma ancora non è finita la giornata No Questo lo sapete chi è Sapete chi è questo Questo è il marito Questo è il tizio Che è entrato prima del vero marito Ma ha ucciso Il marito ha sbagliato Guarda 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 Leggete 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 Vicini uccisi Uno Eh lui eh Ti ho fatto uccidere la moglie raga Però ha preso A Però ha sbagliato Nafton Era Nafton Afton non aveva la data Nell'ID Ed era quello sbagliato Era Afton Afton non aveva la data